Buongiorno ragazze, mamma mia è nata, oggi è martedì e siamo venuti al centro commerciale a fare un giro, dato che ancora il tempo fuori non permette altro, oggi li porterò qua sotto che ci sono tutti i giochi e le casette, facciamo un giro qui al centro commerciale, adesso andiamo a mangiarci una brescina, poi devo andare un momentino all'ipercopy che c'è qui dentro e facciamo un giro così, a dopo! Grazie a tutti! Eccoci arrivati nell'area gioco del centro commerciale, loro la adorano, sono venuta anche con Alex, è proprio fatta bene, c'è anche il calcetto, diversi tavolini, le casette, lo scivolo, il dondolino, i dondoli e di qua altri tavoli e altri dondoli e sopra praticamente c'è tutta la parte dei negozi, basta pane ed è molto bello! Loro giocano, vi faccio vedere cosa abbiamo preso, ho speso circa 50 euro, ho preso i panini, poi ho preso la baguette di pane a 55, c'era questa offerta sulla teglia ed era a 5,40 ed è davvero molto comoda, poi ho trovato le pappe per oggi che mangiamo un panino fuori, ho trovato questo che è un reggiseno, mi sembra fatto bene, 7,40 euro del marchio Cop, delle bistecchine 5,75 euro, ho preso le zucchine perché devo proprio andare a fare la spesa, ho finito quasi tutto, i mandarini, borraccia da portarmi al lavoro, 2 euro, non ho trovato la feta quindi ho preso questo a mio marito, 1,99 euro, un omogenizzato per fare la pappa, le crocchine a tutti, il latte a 99 centesimi, 1,5 kg di tegoline che sapete che amo, 2,88 euro, la pasta, formaggio grattugiato, 2 cartoni di latte, lo yogurt, i broccoli e le banane, un tutto 52 euro 12 e mezzo siamo tornati, ciao cookie, ciao 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 A presto. ragazze ieri dai cinesini ho preso questa scatola rosa e questa perché vorrei dare una nuova sistemazione ai trucchi e ho preso anche il porta sapone volevo prenderli in ceramica ma con i bambini piccoli è un pericolo e quindi adesso andiamo un po' a sistemare faccio vedere il mio lettone che adoro con questa fantasia e queste copertine che ho messo lunedì che ho fatto i video di pulizia ma sono proprio carine comunque adesso andiamo di là ora questa è un po' la situazione adesso tiro fuori tutto così sistemiamo bene ecco qua questi sono i trucchi che tengo nel cassetto lì adesso vediamo un po' di sistemare meglio innanzitutto volevo già sistemarmi questi ops opla o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti i rossettini messi qui, tutte le tinte. Io adoro le tinte labbra, difatti ne ho un pochino. E qui ho messo i temperino, spugnetta e le cose per fare la base trucco e correttori. Mentre qui c'è sempre questo bicchierino che sono le cose che uso giornalmente, quindi mascara, matita sopracciglia, matita labbra e ovviamente immancabile eyeliner. Ecco qua, l'ho messa qui con tutte le mie cosine per fare i conti e i programmi. I bimbi sono crollati. Pomeriggio finalmente vi risaluto. Sono già le 5 e un quarto. Noi siamo usciti alle 3, oggi c'è un bel sole, guardate che luce. Non ho più registrato perché Alex si è messo d'accordo con un suo compagno e quindi sono sotto che giocano. Siamo passati all'Eurospin che ho preso le costine perché non bastava il broccolo con la salsiccia che avevo già preparato. Così li faccio anche quelle, infatti se sentite sono loro che giocano giù. Ovviamente io non riprendo quando ci sono altre persone. Ho preso poi la Nutella che adesso li faccio in dolce e le costine che metto su subito in friggitrice ad aria. Faccio un po' di pasta e quelle, poi verso le 7 lo riaccompagniamo a casa. Adesso pulirò anche il frigo così mi anticipo, dato che poi appunto lo devo accompagnare e siamo ancora un po' assieme a voi. Costine preparate. Musica 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 Allora, Alex e i suoi amici sono giù e gli amenacan si stanno mettendo un po' a colorare mentre io qua ho un bel macello adesso puliamo il frigo nel frattempo le costine si cucinano gli ho messo la salsa barbecue così viene molto più buona e soccorita e il dolce molto semplice pasta sfoglia e nutella e adesso puliamo il frigo e adesso puliamo il frigo e adesso puliamo il frigo ho terminato la pulizia del frigo e nel frattempo ho ripulito anche i vari cassetti che utilizzo e ho messo le carte pulite del forno questi qua li utilizzo per le verdure questo per le patate mentre di qua ci sono i contenitori con merende varie di cui gli yogurt cose salate, brioche queste qua le simi kinder deliz che teniamo in frigo mentre di qua ci sono i due contenitori delle insalate e qui quelle delle uova poi come faccio Grazie a tutti 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 Buonasera sono le 20 e 30 Grazie a tutti Grazie a tutti